insomma quanta emozione anche oggi tante belle parole un bel momento l'applauso no è sempre un qualcosa di straordinario poi la presenza nostra qui al Quirinale è qualcosa che che ci riempi di orgoglio che ci dà la giusta carica per per Parigi per rappresentare gli italiani e le parole del Presidente della Repubblica ci hanno veramente caricato e onorato e quindi siamo pronti tutti a rappresentare l'Italia e gli italiani senti al volo una cosa personale io ho visto l'ultima frazione a un certo punto a cominciare ad accelerare sembravi un soldato a molla che pensavi in quel momento? Volo semplicemente tagliare il traguardo il più facente possibile il prima possibile sapevo che la medaglia d'oro si sta avvicinando e quindi ero ansioso di prenderla Grazie